Per Pesfera tutto ciò che dice sia vera. Come potrei risolvere la situazione lavorativa a Manfredonia? Allora io ho un progetto che voglio mettere al comune, sperando che il lo accetti, per dieci anni dare la disoccupazione a tutti i giovani di Manfredonia e fare, bloccare tutte le fabbriche dell'Eniche, fare stare per dieci anni così bello all'asciutto, rispopolare tutto e fare il vero turismo, perché Manfredonia è una città nata col turismo, peccato che tanti e tanti anni fa hanno messo quelle industrie, perché ci hanno distrutto. Però si può, si può, si può, cerchiamo di fare il turismo in questa città, perché Manfredonia è la perla del Gargano, i turisti vengono qui, si bloccano qui e non vanno più a nessuna parte, perché Manfredonia è piena di vita. Però dico la gente, ascoltate sempre su Facebook Peppe Sfera, perché tutto ciò che dice si avvera, mi raccomando. Va bene, ringraziamo Peppe Sfera. Ringrazio voi di Stato quotidiano. Grazie. Buongiorno, ciao. Ciao. Ciao.